Nel 1533 Papa Clemente VII decide di modificare le decorazioni della Cappella Sistina. Per la realizzazione del dipinto, che ha per soggetto il giudizio universale, incarica Michelangelo Buonarroti. L'avvio è un po' difficoltoso. I lavori iniziano infatti solo nel 1536. Nonostante le grandi dimensioni, l'opera è infatti di 13,70 per 12 metri, Michelangelo la dipinse quasi interamente da solo. Egli riesce a racchiudere in un'unica scena tutti i beati salvati in un unico movimento che parte dal gesto di Cristo. Accanto al Cristo, la Vergine gira il capo rassegnato. Accanto alla Vergine si riconoscono con facilità alcuni santi. San Pietro con le due chiavi della Chiesa, San Lorenzo con la graticola, San Bartolomeo con la pelle sulla quale sarebbe impresso l'autoritratto di Michelangelo, Santa Caterina con la ruota dentata, San Sebastiano con le frecce in mano. Nella parte centrale, gli angeli risvegliano i morti al suono delle trombe. A sinistra, i risorti risalgono verso il cielo, recuperando i loro corpi. In basso, Caronte a colpi di remo obbliga i dannati a scendere dall'imbarcazione per condurli agli inferi. È evidente in questa parte il riferimento all'inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, che è anche raffigurato tra le anime del cielo. Nelle due lunette in alto, gli angeli sorreggono gli strumenti della Passione di Cristo. A sinistra, la croce, i dadi e la corona di spine. A destra, la colonna della flagellazione, la scala e l'asta con la spugna imbevuta di aceto. Vent'anni dopo l'inizio dei lavori, durante il Concilio di Trento del 1545, arrivano le prime critiche da parte della Chiesa. Michelangelo viene ritenuto poco rispettoso delle sacre scritture e scandaloso perché raffigura i santi nudi. Nel 1564 si decide quindi di coprire le nudità con abiti chiamati braghe. Per far questo, viene incaricato un allievo di Michelangelo. Daniele da Volterra, che prenderà così il soprannome di Daniele dei Braghettoni. Michelangelo non arriva a vedere le modifiche che si fanno al suo capolavoro, perché muore proprio all'inizio dell'anno. Con il grande restauro del 1994, le braghe, che erano state aggiunte anche in anni successivi al 1564, vengono eliminate. oggi rimangono solo quelle cinquecentesche, a testimonianza della controriforma voluta dal Concilio di Trento.